Upas, trama 14-2, Michele più attratto da Silvia. Prosegue l'appuntamento con un posto al sole, la SOV dell'ex esprime Time di Rai 3. Le anticipazioni relative alla puntata che andrà di Upas in onda martedì 14 febbraio svelano nuovi colpi di scena. Silvia si troverà a dover affrontare un momento doloroso della sua vita. Tuttavia al suo fianco ci sarà Michele. Il quale si sentirà sempre più preso dalla sua ex moglie. Manuela, invece, soffrirà ancora a causa della distanza creata da Nico. Il 14 febbraio si festeggia a San Valentino, comunemente indicata come festa degli innamorati. Seguendo un posto al sole e una timeline reale, si celebrerà anche nella SOV questa ricorrenza. Una puntata in cui sarà dato spazio all'amore e a tutte le sue sfaccettature. Silvia. Avendo ricevuto una notizia non bella, si troverà ad affrontare un momento difficile. Gli spoiler criptici non ci dicono di cosa possa trattarsi nello specifico, certo è che al suo fianco ci sarà una persona pronta a sostenerla e supportarla. Si tratta di Michele, il suo ex marito, il quale non ha mai smesso di provare qualcosa per la donna. La puntata di Upos del 14 febbraio proseguirà con la narrazione delle vicende di Silvia e Michele. I due coniugi avranno modo di riavvicinarsi e questo farà sì che Saviani si senta sempre più attratto dalla sua ex moglie. Tuttavia, Silvia pur sentendo un trasporto verso Michele finirà per allontanarlo. Silvia, di fatti, essendo legata sentimentalmente a Giancarlo, dovrà fare i conti con questa nuova relazione. Non riuscendo a non sentirsi in colpa verso il suo attuale compagno, la donna prenderà le distanze dal suo ex marito. Nel corso della puntata di Upos che andrà in onda il 14 febbraio sarà dato spazio anche alle vicende della giovane Graziani. La ragazza si troverà ancora una volta a fare i conti con la sua difficile relazione sentimentale. Riccardo, infatti, non ha di certo un bel carattere, e questo non fa altro che influenzare negativamente il loro rapporto. Fra i due si presenteranno anche tensioni lavorative. Una puntata all'insegna dell'amore quella di Upos del 14 febbraio. Le anticipazioni svelano che Serena riceverà una bella sorpresa che la renderà molto felice. Lo stesso, però, non si potrà dire di sua sorella Manuela. Quest'ultima, infatti, non riuscirà ad accettare la distanza che Nico ha deciso di mettere fra di loro. Nicaela non farà altro che peggiorare la situazione, punzecchiando sua sorella e mettendola in difficoltà. Nici un curcubeu, da' ci ca toate astea-s doar in capul mergi. Si-mi zice du-te, nu mai sta, tu chiar nu vezi cat ai intarziat deja. Arunca spate visele intr-o geanta si pleaca, nu grabește-te ca trenul asta nu așteaptă. Dar eu știu deja ca vreau cu totul altceva. Inchide ochii-ti, poți imagina că lumea e a ta și-n plus, poți să sari sus, 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 sus. Ai mei, ai mei, ai mei, ai mei, n-au avut hava. Când e sus, când e sus, când e sus, când e sus pot eu să sar. Acum că nu, nu, nu mai am nimic de ascuns, pot să mă zic tot mai sus. Mai sus, mai sus, tot mai, tot mai sus.